Il silenzio è cosa viva. Siamo arrivati ad un nuovo paragrafo oggi, dal titolo così. Così dovreste pensare di questo mondo fugace. Una stella al mattino, una bolla in un fiume, un lampo in una nube estiva, una luce tremolante, un fantasma ed un sogno. Buddha, il Sutra del Diamante Grazie. Grazie.